SIGLA Allo, ti hai aspettato sabato? Dobbiamo anticipare che la faccia cazzo doveva arrivare oggi, invece sta qua da ieri e sabato se ne è riparte. Ah, e quindi che... E quindi quella cosa si deve fare oggi. E quando c'è? Dove la dobbiamo fare? Dobbiamo andare al suo ristorante preferito, pescareccia a fregge, e dobbiamo stare là prima di pranzo. Allora, mi devi dare un minuto? Io lo devo dire alla presto. Se non mi presento neanche oggi, cioè, mi denuncia al giudice di sorveglianza, un po' svanendo per tipo... Ed è molto. Va! Ciao, Mimmo. Ciao, Simo. Tutto bene? Tutto a posto. E chi voleva quello da te, scusa? Niente. Mi lo sei incazzato con me? E che cazzo mi si muove? Scusa. Amm. Amm. So, ci sono. Che cosi. Grazie.